Mista, se l'aspettava tutte queste polemiche dopo il cappò di Grosseto, anche le sue scelte sono entrate un po' nel mirino? No, anche se ci può stare che magari alcune volte essere troppo coerente e fare le cose troppo precise nel calcio non vanno bene qui tante volte è meglio fare come ho fatto altre volte, d'acchito si fa e purtroppo dopo con la sconfitta e alcuni episodi negativi ci sono un po' venuti contro però nel calcio ci può stare, però ora dobbiamo pensare alla prossima partita e spero che si faccia una buona partita È un caso che l'Ascoli nelle cinque partite che ha vinto non abbia mai subito gol? È questo il nostro segreto? Eh ma anche lì è difficile da decifrare perché avevamo fatto anche a Grosseto in fase difensiva una partita perfetta avevo cambiato anche qualcosa nel modulo poi stranamente per essere più aggressivi invece è sembrata che fossimo un po' rinunciatari invece addirittura abbiamo fatto fare un cambio a loro nel primo tempo quindi voleva dire che la fase non possesso la stavamo facendo molto bene però purtroppo quel gol ci ha un po' sconvolto il piano tattico, poi la sfortuna ha voluto che anche nel cambio del secondo tempo quando stavo per fare l'entralizzazione abbiamo subito il secondo gol e quindi poi anche gli errori dopo fase conclusiva comunque è inutile recriminare, la partita si è persa e quindi bisogna guardare avanti Che idea si è fatto di questo Livorno? Una squadra che segna tantissimo però dietro qualcosa concede? Sì beh sicuramente è una buonissima squadra, hanno giocatori di esperienza di B soprattutto davanti sono forti non solo i due attaccanti ma anche gli altri che fanno gli inserimenti però è chiaro che lì bisogna stare molto attenti però ho grande speranza appunto di poterli bucare in difesa perché anche lì qualcosina concedono Torniamo con le due punte davanti? No sicuramente ma lì anche a Grosseto non era tanto, addirittura nel mio intendimento tattico dovevamo essere tre incursori o più incursori perché a Reggio Calabria con due punte contro l'avversa 3 avevamo fatto, Fexis e Zazza avevano fatto ben poco poi siccome a Reggio veniva dalla Nazionale era un po' stanco Zazza anche qui aveva fatto quattro partite in dieci giorni ho detto non capiterà una partita come a Reggio allora ho scelto di fare un po' di alternanza ma il risultato diciamo che mi ha dato torto Sulla destra potremmo vedere con occhioli? Non lo so, stiamo valutando, lui comunque è uno di quelli candidati anche se non dovesse partire a essere il primo sostituto perché non abbiamo neanche Gian Lombardo quindi potrebbe anche subentrare dalla parte sinistra oppure addirittura in difesa quindi devo un po' decidere però sicuramente è uno di quelli molto vicini a dover giocare In mezzo qualche dubbio per i centrocampisti da affiancare all'Oviso? Un po' più di dubbi, devo un po' decidere, altrimenti lì è dove c'è tanta abbondanza e vedremo Fiducioso per il recupero di Peccarisi e Soncini in ottica Modena? Abbastanza anche se non do più nulla di sicuro perché visto i tempi si stanno prolungando con i problemi che abbiamo speriamo che siano della partita Chiamiamo per l'ennesima volta raccolta ai tifosi un po' delusi dopo il cappello di Grosseto una partita importante, tutti allo stadio a tifare per il picchio perché serve una bella vittoria Sì, serve soprattutto l'appoggio dei tifosi alla squadra Non pensiamo a Silva, come fa Silva, Silva ha fatto tanto in questo anno che poi tra l'altro è passato proprio un anno di lavoro con l'Ascoli e quindi non pensiamo a lui, pensiamo se è possibile a dare una mano a questa squadra contro una squadra molto forte abbiamo sicuramente, la squadra ha bisogno sicuramente dell'appoggio del pubblico In Livorno, che in classifica vanta 26 punti, figli di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte è allenato da questa stagione al 39enne Davide Nicola che nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato di non voler sottovalutare la trasferta al Del Duca I marchigiani giocano molto meglio rispetto alla scorsa stagione Non sarà una gara facile, ha detto Nicola Il loro uomo più pericoloso è sicuramente Zazza, un attaccante difficile da marcare C'è il massimo rispetto per l'Ascoli, ma ovviamente noi scendiamo sempre in campo per vincere La mia squadra è in un buon momento di forma e vogliamo continuare a far bene Diamo uno sguardo quindi alle probabili formazioni del match in programma domani pomeriggio alle ore 15 allo Stadio del Duca con la direzione arbitrale del 36enne Dino Tommasi della sezione di Bassano del Grappa Il Livorno, privo dello squalificato Remedi dell'infortunato Ceccherini dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-3-1-2 Fiorillo in porta, in difesa Salviato, Bernardini in vantaggio su Lambrughi, Emerson e Gemiti Al centrocampo Luci, tre stagioni con la maglia dell'Ascoli dal 2007 al 2010 il greco Gensoglu e Schiattarella Sulla tre quarti Beilingheri, 11 gol dal 2007 al 2009 il bianconero favorito sul rientrante Siligardi in attacco il duo temibilissimo Paulinho-Dionisi Massimo Silva per la 14esima giornata di Serie B deve rinunciare agli infortunati Soncin, Peccarisi e Gian Lombardo Solito modulo 3-5-2, Guarna in porta, in difesa Prestia, Faiska e Ricci Al centrocampo Scalise, Di Donato, in vantaggio sul russo, Loviso, Fossati e Pasqualini In avanti Zazza e Fezzegin Analizziamo anche le quote Eurobet La vittoria dell'Ascoli è quotata a 3-10 Il pareggio a 2-95 Il successo è il Livorno a 2-45 Il europeo è stato gjort Il Il L거를 All Il 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 Il